L'esercito italiano è arrivato nella nostra città con un evento promozionale dedicato ai giovani presso il centro commerciale. Attività e opportunità, il nucleo Info Team del 46 Reggimento Trasmissioni di Palermo è stato a disposizione dei giovani siciliani e grigentini per illustrare le diverse opportunità che l'esercito italiano offre ai cittadini al fine di intraprendere la carriera militare nelle sue molteplici e diversificate professionalità e presentare il calendario degli arruolamenti per l'anno 2019. Per i più giovani si è parlato delle scuole militari dell'esercito, l'Annunziatella di Napoli, la Teul di Milano. Sono stati anche illustrati i percorsi per divenire ufficiali dell'esercito e quindi cadetti dell'Accademia Militare di Modena, ufficiali a nomina diretta o ancora della riserva selezionata, utili informazioni inerenti ai concorsi per allievi marescialli, volontari in ferma prefissata e infine le opportunità per gli atleti che hanno di portare avanti la propria passione con le sellette e l'uniforme dell'esercito. L'iniziativa è stata organizzata dal Comando Militare Esercito della Sicilia e rientra tra quelle attività promozionali che la Forza Armata conduce annualmente su tutto il territorio nazionale.